49 Sport Fai dello sport? Sì, devo fare del movimento. Vado in una società sportiva. Giochiamo a calcio. Qualche volta nuotiamo. Oppure andiamo in bicicletta. Nella nostra città c'è uno stadio. C'è anche una piscina con la sauna. E c'è un campo da golf. Cosa c'è in televisione? Stanno dando una partita di pallone. Stanno dando una partita di pallone. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. La squadra tedesca sta giocando contro quella inglese. Chi vince? Chi vince? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Al momento sono pari. Al momento sono pari. L'arbitro viene dal Belgio. L'arbitro viene dal Belgio. Adesso c'è un rigore. Adesso c'è un rigore. Goal! Uno a zero. Goal! Uno a zero. Uno a zero. Uno a zero. Uno a zero. Grazie a tutti.